Far finta di essere sani, far finta di essere Vanno tutte le coppie, vanno, vanno Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Michelangelo Mercuri in arte naip, nessun artista in particolare. Michelangelo è un ragazzo di 30 anni, confermi o smentisci? Confermo, purtroppo mi tocca confermare. E sei stato la più grande rivelazione della scorsa edizione di X-Factor Dove tra l'altro ti sei fatto conoscere, omaggiando alcuni dei riferimenti al cantatore contemporaneo più importanti Penso a Battiato, a ICCP, insomma hai fatto un percorso sicuramente per noi affascinante. Beh sì, diciamo che ho portato tutto quello che è stato il mio riferimento musicale In gran parte da quando sono piccolo fino ai... Non credo che quella sia musica che prima o poi uno smette di ascoltare Penso che siano esperienze musicali che uno... Ci torna sempre su periodicamente, sono quelle cose che una volta che capisci che ti piacciono Ti piacciono e basta, ti piacciono per sempre Quindi aver portato questi che per me sono riferimenti paterni quasi All'interno del percorso di X-Factor Me l'ho fatto vivere anche molto bene perché mi è piaciuto anche alla luce di questi Beh, credo che sia una vittoria in generale per chi scrive canzoni d'autore O per chi scrive canzoni con una certa logica Insomma, penso sia stato un bel segnale Ma fra questi riferimenti tu come hai conosciuto il mondo di Gabber? Come ti sei costato le prime volte all'ascolto? Ma diciamo che Gabber... Non ricordo precisamente... Sai, poi Gabber fa parte di tutti quei personaggi importanti Che fanno parte del background di qualsiasi ragazzo italiano, penso Cioè anche se uno non lo sa, un brano di Gabber o con quel viso di Giorgio Gabber lo ha visto Quindi io mi sono ritrovato diciamo all'università, nel primo anno di l'università Ad ascoltare i monologhi di Gabber Che mi tenevano compagnia Io al primo anno di l'università ero un grande studente Ma non avevo una grande compagnia di amici Ero un po' la classica matricola Che sta molto per fatti i tuoi No, l'ho fatto giù in Calabria all'Unical Stavo molto per fatti i miei E quindi addirittura i monologhi di Gabber Oltre che insegnarmi tutto quello che puoi insegnare L'ascolto di Gabber Mi tenevano anche compagnia Quasi come un padre, un fratello Quindi ho iniziato da lì Ho iniziato ad ascoltare i monologhi Mentre passeggiavo andando da un'aula verso casa O piuttosto che al lavoro O piuttosto che semplicemente stando a casa Ed erano tutte quelle cose che mi facevano sorridere Mi facevano capire che forse avevano a che fare con me Mi toccavano C'era un'identificazione fortissima E me li mangiavo uno dopo l'altro Poi chiaramente è arrivata anche la parte musicale di Gabber Noi siamo molto felici che in qualche modo ti abbiano potuto tenere compagnia Ho letto una bella intervista di Giulia Cavaliere In cui usa la definizione del tuo lavoro che a me è molto piaciuta Lei dice È un artista spoken word schizzato dagli annacci cattivo Non so se hai il preferimento Ma mi ha fatto molto pensare al fatto che tu Giocando spesso con l'assurdo Riesci poi a dare dei messaggi spaventosamente chiari Cioè delle cose che poi arrivano molto forti al pubblico Tutto questo per dire Senz'altro dire che tu sei riuscito a fare una chiave moderna A un linguaggio che in qualche modo era antico Ma sì probabilmente sì È una delle chiavi del mio progetto Una delle identità del mio progetto È quello di rendere contemporaneo il linguaggio Che sia musicale, che sia verbale Quindi lavorarlo, rimescolarlo con quelli che per me sono anche gli ascolti contemporanei che faccio Però è come se il cuore del discorso Arrivasse esattamente da una chiave che si definisce antica Per questo simpatico cortocircuito linguistico Perché l'antico a quanto pare è tutto ciò che arriva da tantissimo tempo fa E ci sorprendiamo ogni volta quando l'antico si rivela contemporaneo E invece è semplicemente rileggerlo in una chiave che è già sua Già dell'antico, già l'antico ha la contemporaneità nel suo linguaggio Secondo me E rimetterlo in moto oggi È sì sorprendente Però è come se lo si rivestisse di un suo vestito Quindi sì, rendo contemporaneo qualcosa che è antico Ma per me l'antico è una delle cose più contemporanee che ci possano essere molte volte Non so se è chiaro È stata, no, non solo è chiaro ma anche discretamente Cioè te la sei cavata bene a scuola Che tu era un bel voto l'interrogazione Era un buon risultato Eh sì sì, a scuola improvvisavo tantissimo Tra l'altro ho visto anche sempre in questa intervista Cosa ascolti contemporanei Ho pensato che, cioè, ho capito anche lì delle cose Nel senso che Mi era chiaro che ci fosse un certo Attenzione alla musica elettronica Al mondo dell'elettronica Però leggendo poi, non so se adesso mi ricordo male Bonobo Cioè Sì sì, anche Cioè per dire Frank Ocean, Bonobo Nicolas Jarre Tutta la contemporanea elettronica internazionale Che adoro approfondire, studiare, ascoltare Sì sì E tra l'altro mi sembra appunto Che la chiave di unire quel mondo lì A un mondo dove c'è un'attenzione alla parola Che magari non è Niente a dire Analizzata o sviluppata Con un testo di Gaber Luporini Però magari attraverso le chiavi A effetto Ti porta a una riflessione molto interessante Almeno secondo me questo è Qualcosa di veramente innovativo Eh sì, poi mi dice un mio caro amico Critico, cinematografico Analista, come lui si definisce Che tutto quello che sto facendo Io lo sto incarnando Quindi alle volte mi sorprendo anch'io Cioè non mi rendo conto Appieno di quanto quello che io possa fare O stia facendo O io produca, eccetera Possa essere effettivamente innovativo Dall'esterno Piuttosto che con un certo impatto qualsiasi E lui mi dice È normale, tu sei l'artista Tu devi incarnare Noi analizziamo Noi ascoltiamo E noi ti diciamo Michelangelo Quando finisce la Cappella Sistina Non scrive il saggio Poi fa un'altra opera Certo E quindi questa cosa Mi ha anche confortato Perché alle volte mi ritrovo quasi A non capire Appieno poi L'impatto Ho avuto prima un misunderstanding Sull'omonimia Con Michelangelo Bonarotti Ho pensato Ti stessi paragonando Forse al pittore La Cappella Sistina Che mi si parava Assolutamente no Parole non mie L'omonimia è casuale A meno che Esatto No 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 Omonimia è casuale È anche carina Però tu dici una cosa Che mi porta un po' Quello che volevo chiederti E ti dicevo un po' prima Quando leggevo che tu dici Vorrei un po' liberarmi Dall'aspetto teatrale Per tornare a fare musica Ci ero rimasto quasi male Nel senso che ho pensato Ma cavolo Questa roba è così forte È così di impatto È così evocativa Perché spogliarla Poi ho visto un video Che appunto Riguarda un tuo live E ho capito Che forse Quello che fai Con la tua musica Se l'avessi visto Dal vivo Non attraverso La mediazione La televisione Mi avrebbe fatto ballare Cioè sarebbe stata una serata In che avrei ballato Con i pazzi Con i miei amici Le vostre queste I giorni tragici I vostri continui In carnevale I vostri momenti Vuoti e magici Ed ogni vostro Meno male Il vostro sorriso Forzato La vostra gioia Puntita Il vostro dito Puntato Il bel finale Di partito Stop Stop Per me C'è sempre stata Un po' Una diatriba Ora Chiaramente Quello che esce fuori Nel percorso di X Factor È un po' Una sintesi Di quello che io Più o meno coltivo Da sempre Inconsciamente O consciamente Nel mio discorso artistico Cioè Questa specie di lotta Che ho interiore Interna Tra il lato performativo Teatrale Diciamo E il lato musicale Da compositore Come se le due Avessero sempre Una sorta di Palco Da contendersi Alle volte Esce un po' Più una Alle volte Esce un po' Più l'altra E non ho ben capito Se poi alla fine Si vogliono mettere D'accordo Per collaborare Quella sarebbe La soluzione Definitiva Però Ovviamente Il percorso X Factor Ha fatto sì Che io Facessi Facessi uscire fuori Molto il lato teatrale Quindi È come se È come se Questa cosa Avesse preso Un po' più Di peso E la bilancia Prendesse un po' più Da quella parte Quindi forse Il togliere È semplicemente Per rimettere In flat Per rimettere a zero Di nuovo le due Ma non credo Che esista Poi un momento Preciso In cui Possa essere Tutto a zero È un continuo Tumulto È come il mare È come le onde Non c'è mai un piatto È meno male Perché se no Sarebbe fermo Siccome il movimento È da gestire No E a tutto senso Io però Volevo darti Un'altra provocazione Che non è una domanda Veramente Però Cioè Gaber era riuscito Aveva abbandonato la tv Per andare a fare il teatro E tu invece Sei riuscito a fare il teatro in tv Adesso Puoi uscirne Cioè È un percorso simile Ma per certi versi È anche molto diverso Eh sì No è interessante Come dici tu Se non mi avessi visto in tv Magari in un club Avresti ballato Avresti ballato sotto cassa Come si vuol dire Quando si va ai rave Siccome c'è C'è tanto C'è anche quello C'è il clubbing C'è il teatro C'è la musica d'autore C'è la canzone d'autore Eccetera C'è la sperimentazione sonora Allo stato puro Tutte queste cose si mischiano E chiaramente Quando ci sono i riferimenti Da canzone d'autore Esce fuori anche Gabber Quindi anche il percorso Che Gabber ha fatto Ed è interessante Come si intrecci Al contrario Anche quello che È in un certo senso Bestemmiando Perché sto facendo Un parallelo con Gabber Quindi bestemmiando Beh Meglio di Michelangelo L'originale Eh? Meglio di Michelangelo L'originale Eh ma quello Non era il mio paragone Quello era di un mio amico Che l'ha detto Io non l'avrei neanche Azzardato Eh È interessante Perché poi Tutti questi codici Questi modi Questi linguaggi Hanno Sembra che Debbano avere Un posto giusto O un posto sbagliato Un momento giusto Un momento sbagliato Credo molto All'evoluzione Del percorso artistico Quindi Dal di dentro Quello che può aver sentito Ad esempio Giorgio Gabber Facendo determinate scelte Credo che sia un discorso Che abbia anche Un filo conduttore Con la sua storia personale Quindi con quello Che per lui Era il suo percorso artistico Allo stesso tempo Senza fare Parallelismi Eccetera Eh Anche io sento Cioè in questo momento Sto sentendo che È da Rimettere a posto Un equilibrio Ridando il giusto peso Anche al lato musicale Quindi mi sto Sto semplicemente Facendo questo gioco Di equilibri Che dovrò Curare bene Nei prossimi mesi Certo Io Su questo Sul tuo percorso Di X Factor Ho un'ultima Reflessione Che riguarda Una cosa Di Gabber Che io chiamo Cosa perché Non trovo mai bene La parola Fra il monologo E la canzone Ogni tanto Cioè È difficile poi Etichettare Una performance Di qualche tipo Certo C'è un monologo Che si chiama Monologo appunto Canzone Che si chiama Il Tic Non so se sei presente Di Gabber Eh beh Oglia Non ce l'hai presente Oglia È un monologo In cui lui raccontando Il meccanismo Da catena di montaggio Fa una serie di azioni Per mimarle No E quindi diventa Che svita Mette il bullone Lavoravo in quel dibaggio Ad un nastro di montaggio La mia testa si girava E il motore accompagnava Per seguirlo fu così Che mi venne Un altro Tic Non si sta poi Tanto male Con un Tic Orizontale Ma per colpa Di un rialzo Lo seguivo In un soppalzo Per quel nastro Tu carciò Che il mio Tic Si complicò Mi ha fatto molto pensare A quello che hai fatto tu Su quel palco lì Per certi versi Beh sai Il Il È molto pericoloso Il filo è molto sottile Perché il gioco Che si fa alle volte È quello di Parlare di Un disturbo Quasi di un fastidio Incarnandolo Che è un po' Il lavoro attoriale Anche molte volte Incarnarlo Per poi Cacciare fuori Quello che è Esatto Ed è molto pericoloso Perché uno Si mette addosso Il fastidio Cioè uno se lo mette addosso Il Tic Mi colpì Quando lo vedi Da piccolo In tv Appunto Per quella storia Che uno Gabber Comunque anche se Non sa chi è Poi quando lo vede Sa chi è Io da piccolo Ricordo che passarono Credo su un programma Rai In prima serata Il Tic Di Gabber E mi colpì molto Come quei suoni E il suo corpo Fossero la stessa cosa E tutto fosse così Armonioso E allo stesso tempo Fastidioso Il gioco che faccio Mi viene in mente Ad esempio In partecipo Nell'esibizione di partecipo Io Mi metto addosso Sul corpo dei suoni Che sono nella base Del brano Per Come dire Diventare Il corpo diventa Quel suono E quel suono È fastidioso Il corpo fa dei movimenti Degli scatti Eccetera Dei Tic È una cosa che Adopero parecchio Quindi Il gioco è lo stesso Di riuscire a raccontare Raccontare qualcosa Rimanendo Anticorpo E non è Diventare quel corpo Rimanendo anticorpo Infatti volevo arrivare qui Perché Un'altra cosa Che mi hanno fatto Oltre riflettere È la Tricharazione In cui dici Ho avuto paura Di essere capito E mi viene a dire Ma cavolo Come ho avuto paura Di essere capito Per farsi capire Per arrivare Per fare un racconto A parte gli scherzi Cioè è una cosa Che ti preoccupa Il fatto di Dover cambiare Quello che è Il tuo contenuto Per arrivare A un pubblico di massa Ma diciamo che io Ho sempre Come Il mio obiettivo Non è mai stato Quello di arrivare Al grande pubblico Ma di arrivare A un pubblico Abbastanza grande Questa è stata un po' La cosa che mi ha Sempre reso Libero mentalmente Da quando sono Compositore O quando sono Performer O eccetera Eccetera Quindi sì Il pericolo Paradossalmente Il pericolo più grande Di chi racconta Il Diciamo Il lato Di chi non è capito È essere capito Quindi essere inglobato Un po' Da una specie Di piacere Da una specie Di Di qualcosa Che ti fa Ti potrebbe far pensare Che in realtà Quel male Che tu reputavi tale Non è in fondo Poi così male E allora Ti accomodi Da anticorpo Diventi anche tu Parte del corpo Queste sono frasi Che diceva Giorgio Gaber Che diceva Fabrizio De Andrè Quando parlava Dell'artista L'artista Che si integra Se l'artista Si integra Ce la prendiamo Nel culo Diceva Fabrizio De Andrè Eppure l'artista Deve raccontare Proprio quella cosa lì Per quello Dico che è pericoloso È un gioco pericoloso Come quello Delle performance Attoriali Che uno pensa Che l'attore finge Invece no L'attore è la persona Più sincera Del mondo È pericolosa E' pericolosa Questo lavoro Gli anticorpi È veramente Secondo me Ben spiegata Nel senso che Sicuramente Fino a quando Riesce a essere Parti di un sistema Ma in un'ottica Di alternativa O comunque Di prospettiva Differente Allora diventa Un contributo Di valore A un ecosistema Che è quello Poi delle canzoni Sì 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 Sono perfettamente D'accordo Ma infatti Le varie Come dire Le varie Giochi mentali Che possono accadere All'interno Di chi poi Decide Di fare Di avere Questo tipo di ruolo Sono parecchi C'è una sorta Di grande resistenza Interna Che uno deve coltivare Nel corso Degli anni Beh Sì Direi proprio di sì Tu hai Volevo concludere La lezione Di Gabrologia Perché ti ho già tolto Tanto tempo È stato veramente È un piacere Super piacere Ma volevo Chiederti un commento Su un brano Che insomma Tu mi hai indicato Come un brano Che conosci Che apprezzi Gabri Che è i borghesi I borghesi Sono tutti Nei porci Più sono grassi Più sono merci Più sono merci E più ciacco I migliori I borghesi Sono tutti Che quando ero piccolo Non stavo mica bene Ero anche molto magro Avevo sempre qualche allucinazione E quando andavo a scuola Mi ricordo di quel vecchio professore Bravissima persona Che parlava in latino Che parlava in latino ore ore Dopo un po' che lo guardavo Mi si trasformava Così La bocca si chiudeva stretta Lo sguardo si bloccava Che è un brano poco noto Il colore scomparire Nella produzione Che già è più forte In di Gaber Tu sei andato a scegliere Una gemma del 70 Mi pare che sia Sì Se non sbaglio Sì Cioè intanto ho pensato Che i borghesi In effetti è un loop È una canzone loop Quindi è una scelta Piuttosto giusta In questo senso E poi ho pensato Che forse il discorso dell'anticorpo Quanto di più corretto ci sia L'idea di come si possa evitare Quel tipo di borghesizzazione Sì Sì No Il discorso è lo stesso Poi io mi rendo conto Alle volte Io dopo che ho scelto il brano Mi sono reso conto Di tutte le cose Che ora mi hai raccontato Nel fatto della ripetizione Piuttosto che nella narrazione C'è esattamente qualcosa Che ha a che fare Con il racconto Che sto Che faccio Con il mio progetto Sì È l'imborghesirsi Che negli anni Insomma Settanta Sessanta Era un tema Molto Molto più caro Di oggi Poi io credo che Le classi sociali Siano una delle cose Che è riemersa nuovamente In questa pandemia Ma apro e chiudo la parentesi Velocemente No È una parentesi Molto interessante È verissimo Che è riemerso Quel discorso Perché il privilegio È diventato più visibile È più concreto Beh Alle volte il privilegio È anche in diretta In diretta a Instagram Piuttosto che C'è l'intrattenimento Del VIP O comunque Della persona Agiata Che Che intrattiene Il povero Nella sua casa piccola Che per star bene Guardando quella cosa Sta meglio E allora Anche lì È un gran bel cortocircuito E la classe sociale E la classe sociale È nuovamente evidente E questo brano Deriva proprio Da lì Da quegli anni In cui Il brano Veniva raccontato prima Da Jacques Brel Stavo per dire Esatto È una traduzione Adesso faccio un finto francese Che non conosco Ma le bourgeois Sono più le cochon No ma neanche io Lo conosco Io sono le remoscia Di francese Vabbè però Insomma Quindi sì Il discorso Era sempre Esattamente quello Del raccontare Mentre si è puri Qualcosa E subito dopo Nella canzone È subito dopo Diventare quel qualcosa Ed essere riconosciuto Dal proprio erede Come quel qualcosa Che è un tempo Dal quale Ci si teneva Ben distaccati Anche Jacques Brel Nel racconto del brano È insieme a Questo amico Mentre ride dei notai Poi uscendo Da quell'hotello E viene deriso Dai bambini Quindi Il discorso È sempre Sempre lo stesso Il fascino discreto Della borghesia Questa è una brevissima parentesi Ma sei un esperto Di Brel Brassant Il mondo della Francia Perché vedo Non mi definirei esperto Conosco Sì di Jacques Brel Un po' di brani Non conosco il francese Però La teatralità Che Jacques Brel È il suo essere Così Passionale È il suo essere Così performer Passionale È una delle esibizioni Che preferisco Di Jacques Brel È di Amsterdam Nell'Olimpia del 66 Dove Credo che faccia Una delle interpretazioni Più Intense Proprio Della Della sua Intera Vita Quindi no Non mi definisco Un grande esperto Però ci sono Quelle Me la dovrò recuperare Perché questa esibizione Che dici tu Non ce l'ho Però mi ha sempre Molto colpito Quell'eleganza Quella consiglia Me la recupererò Appena terminiamo Questa chiacchiera Ma io ho ancora Olimpia 66 Amsterdam Eh? Olimpia 66 Amsterdam È importante che sia quella Quella lì Quella sarà Ti dicevo Che secondo Io ho visto L'ultimo video All'alba di questo Natale Nel tuo album Nessun album In particolare E In questa storia Di un uomo Che in qualche modo Non voglio fare Gli spoiler sul video Cosa si può dire? Vabbè Comunque È un racconto Di una normalità Come sempre Piena di Da una prospettiva Di un Diversa Chiamola così E ci ho visto Un po' quella Che è la crisi Di un uomo Normale Di un uomo borghese È una cosa Che ha senso Oppure no Come nasce Ma innanzitutto Io non credo Che dire mai A uno spettatore Di un'opera Che una cosa Possa non avere senso Anzi Molte volte Da un commento Di qualcuno Capisco che Ci sia un senso In più Di qualcosa Che ho fatto Sono molto Per la libertà Di interpretazione Che è la chiave Di lettura mia In prima persona Però mi piace Quando gli artisti Dicono No Non hai capito Niente Eh no Ci sta Io sono Invece Un artista Inclusivo Includo i sensi Non ne escludo Un artista Troppo educato Per dire Questa è una Castroneria No no Comunque no Credo che Di base L'imprinting Del video Del brano Ascoltando il brano Eccetera Sia Quella sì Di una crisi O comunque Io quando Ho scritto Il video Pensavo molto A come Il concetto Di solitudine La solitudine Del cittadino Globale Diceva Bauman Eh proprio La solitudine Del cittadino Eh Poi è curioso Che questo Un anno fa Abbia raccontato Le mascherine Di oggi Perché l'uomo È mascherato Eh questa È una Simpatica coincidenza Che è avvenuta Però in quel momento Il racconto era Di un uomo Che effettivamente Fa le cose normali Addirittura Si interfaccia Acquista Una stella di Natale Eh Piuttosto che fa Altri gesti Quindi ha anche Dei rapporti Con quelli Che gli stanno attorno Eh Eppure È Pieno di gente Ma rimane solo E la cosa È raccontata Dall'immagine Eh Dall'immagine Alla fine Il videoclip Parla Il linguaggio Del videoclip È quello Dell'immagine E io lì Rimango con La spiegazione Perché non Non voglio andare Poi a dire No no È fatto benissimo Anche perché Ho paura Che raccontarli Videoclip È un po' Come spiegare Le barzellette Non so come dire Sì Quando devi Spiegare la battuta Non è Non è perfetto Però possiamo Possiamo farlo vedere O possiamo invitare A andare a vederlo Quindi Assolutamente Queste due chiavi Pensavo ridendo Che io Bauman L'ho studiato All'università E poi non mi è stato Più presentato Se non da un altro Tuo conterraneo Dario Brunori Che è l'unico Anche che mi ha citato Bauman Poi negli successivi Dieci anni Quindi mi fa sorridere Che anche tu Abbia questa Questa referenza E in Calabria Arrivano soltanto I libri di Bauman Pazzesco Non so Una cultura media Spropositata Evidentemente Sì sì no Effettivamente Poi ho la fortuna E il piacere Di ogni tanto Scambiare Le chiacchiere Con Dario Andiamo d'accordo Forse anche inconsciamente Per queste letture Comuni Che possiamo anche avere Guarda io Ti faccio Un'ultima domanda Perché appunto Sennò diventa Un sequestro di persona E ti chiederei Di immaginarti Un tuo fan E di immagini Di raccontarli Perché potrebbe avere Un senso oggi Conoscere il lavoro Di Gaber Cioè Un tuo ipotetico Follower Che è una brutta espressione Ma Spiegargli Perché potrebbe avere Senso conoscerlo Ma Qui è Come dire Beh direi Il senso Che ha avuto per me È il Mi direi Hai voglia Di avere un altro padre Un altro A volte uno Pensa che ha un padre Ed è È apposto così Io invece ho Come Gabber Come battiato Come Anche amici del teatro A maestri Eccetera Sono tanti i padri Che uno coltiva Nel corso della propria vita E che poi diventano Dei maestri O comunque Gente che ti fa capire Percepire meglio Delle cose Quindi Siccome sono anche Un po' Un figlio Di queste frasi forti Gli chiederei Se ha voglia Di avere un altro padre E gli indicherei Subito Un'opera È uno slogan Molto forte Va bene Michelangelo Io ti ringrazio Moltissimo È stato veramente Una fortuna Avere questa possibilità Di chiacchierare con te Grazie È stato Un mega piacere E anche un grande onore Chiacchierare Ed essere chiacchierato Con te Quando avremo modo Faremo qualcosa insieme Lo sai che torneremo A romperti le scatole O faremo qualcosa Dal vivo Per immaginarci qualcosa Guarda Io finché sono Indirizzato Sul mio percorso artistico E non avrò invece Fatto il mio orto Che è l'obiettivo finale Della mia vita Finché non ho fatto l'orto Puoi chiamarmi Va bene Ok Allora speriamo di non avere Melanzane e barbabietole A breve Grazie Ciao Ciao